Allora partiamo col monologo e ragazzi quando vi dico calma piedi per terra è un momento dove non possiamo andare sull'esaltazione anche se c'è De Rossi siamo tutti contenti perché bravo dice tutto quello che bisognava dire prima e quello che c'era prima non diceva che faceva fa giocare tutta la rosa come non faceva giocare quello che c'era prima che comunque è della Roma vero non come quello che ostentava dire prima che non sa neanche che vuol dire essere della Roma Giuseppe Mourinho e tutte queste cosine belle qua no anche il calcio sprazzi di calcio la Roma che fa la media dei 2-3 gol partita sempre in Serie A cose che non si vedevano mai con il signore Desetubal tutte queste cose belle qua però però c'è un però che in questo momento la Roma ha fatto un percorso diciamo dove è stata brava però secondo me non ha fatto niente di eccezionale incredibile spaventoso i pericoli sono tutti dietro l'angolo dietro l'angolo oggi il Napoli cazzarola va a Sassuolo è vero che il Sassuolo stanno fa schifo e noi abbiamo fatto passare la vittoria con il Sassuolo 11 contro 10 come siamo vinto contro il Liverpool il Napoli per oggi va là fa 6 gol con tripletta dosi men un Napoli che questi mesi dove questi mesi qua era mancato Semen dove un Napoli dove si è completato anche un pochino sul calciomercato è un Napoli che adesso ce lo hai a 4 punti come tu sogni di prendere il Bologna a 4 punti dobbiamo dire che hai anche Lazio e Napoli a 4 punti e hai la Fiorentina a 3 punti sabato c'è uno scontro diretto dove è troppo importante ecco perché anche per l'Aiella secondo me noi tifosi da Roma non dovemo fare i sboroni come fanno sempre perché anche queste cose dei fluidi dell'Aiella contano e per me adesso abbassiamo tutti il profilo perché se stanno aspettare ci stanno aspettare i Murigni ci stanno aspettare i tifosi da Lazio ci stanno aspettare i tifosi dei quelli sapete che la Roma la odiano tutti perciò adesso profilo basso non facciamoci sentire sì sì però non abbiamo fatto niente col Torino in casa 61.000 potevi vince col Frocinone qualcosa che penso veramente aspettiamo perché sabato c'è una partita da vincere a tutti i costi perché ci sono tanti scontri diretti il più importante Atalanta Bologna dove puoi prendere punti a tutti e due ma anche se ne prendi uno comunque a una dei due prendi punti sicuri se tu vinci però a Monza e Monza è una squadra rognosa una squadra che gioca a calcio una squadra che è organizzata una squadra che c'ha ritto Montezidà che gioca papà 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 come vi dico io però la Roma c'è i giocatori più forti se la Roma si mette a pure lei, gioca con personalità gioca con cattiveria deve capire l'importanza della partita, la Roma è favorita col Monza poi non è che stiamo parlando di uno stadio infuocato, caldo è uno stadio normale Monza, corone che macchine il calcio il calcio il calcio diciamo è stato sempre vissuto fra C e B sono due anni che fanno la Serie A però vi dico che io stimo moltissimo, voi lo sapete Pallatino per me è un signor allenatore e lo ripeto il Monza ha più punti di quello che deve avere come Rosa perché secondo me è una Rosa che posta i punti dell'Udinese di queste squadre qua ma se si trova là proprio perché c'è un allenatore bravo bravo bravo, una squadra organizzata e potrebbe essere una partita allenante anche per il Brighton questa spero che De Rossi non sbagli la formazione spero che chi scenda in campo capisca l'importanza di questa partita non seculli sulle allori per questa vittoria in casa con Torino che si dia continuità alle trasferte e questa è la prima trasferta proprio difficile da parte della Roma e spero che si dia continuità perché è importante fa sto percorso qua all'andata comunque all'ultimo minuto con Murigno avevamo vinto perciò bisogna prendersi tre punti per forza piedi per terra calma adesso l'Inter sta vincendo 2 a 0 al primo tempo con l'Atalanta e Stamos e City e Boni però non credo che l'Inter vabbè City e Boni perché questo è molto importante però dipende tutto dalla Roma sabato è una partita da ragazzi da da importantissima per quanto riguarda altre cose che vi posso dire mi sono arrivate delle notizie in cui mi hanno raccontato dei problemi perché perché i giocatori all'ultimo se so non rigirati con Murigno ma non stimavano più l'allenatore a livello di campo quello da tanto tempo però lui era sempre riuscito ad entrare dentro in empatia con i calciatori a prenderli nel cuore nel cervello perché in campo veramente allenatore di una scassessa unica a Murigno io vi parlo proprio per quello che mi dicono e invece invece lui ha fatto un errore gravissimo che è stato quello dove i calciatori hanno detto ah ma è così allora allora non è come 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 sembra e hanno cominciato a pensare che non è una bella persona a livello sportivo un bel personaggio sportivo altra cosa vi devo dire la notizia di chiesa io ieri ve l'ho detta che non vuol dire che chiesa verrà alla roma gente ancora che rompe il cazzo sui cosi di che toc quello quell'arto eh ma 340 milioni 8 milioni l'anno state buoni le cifre state buoni con le cifre date meretta non parlo a caso non vi sto a dire che il chiesa sarà un giocatore a roma caro ma sta ancora neanche in trattativa ma date meretta che un qualcosa se vi parlo di chiesa è perché è perché ci sta un qualcosa per parlare di chiesa sta notizia lo ripeto me l'ha data Calopeira e faccio lo dico perché non mi fa il falso e deprende i miei meriti che è però siccome me l'ha detto lui in privato so tante cose magari lui poi lui la dice in un altro modo io ve l'ho detta altra cosa importante mi risulta che Bove poi mi sembra anche evidente non piaccia tanto a a De Rossi facciamo così cioè non è non gli piace tanto a De Rossi dai ragazzi più di più di adesso non vi posso dire un'altra cosa che mi dicono sul contratto di Bove è che Bove non prende un milione di euro ma prende un po' di meno sui 7-800 mila euro e che sta situazione qua diciamo vediamo a fine stagione nel senso che a fine stagione bisogna vedere perché se Bove non piace tanto a De Rossi non lo so neanche se poi può rimanere nel senso o rimane così oppure magari a Roma decidete farci anche Napoli-Svalenza altre cose mi dicono società in questo momento non in vendita e mi dicono che e per quanto riguarda ancora il DS e il capo della comunicazione bisogna aspettare ancora un pochino un pochino di tempo ma ancora non ancora non ci siamo ancora non ci siamo c'è ora ancora un po' di tempo questo mi dicono perciò vediamo ragazzi vediamo però adesso vediamo il presente che è troppo importante riandare in Champions League perciò sabato dobbiamo tutti percepire quanto è importante sta partita e nel nostro piccolo io do un consiglio non è che voglio insegnare a nessuno o sapete non mi piace insegnare a far tifoso da Roma ma nel nostro piccolo abbassiamo il profilo su l'entusiasmo la cosa abbassiamo tutto quanto perché aspettiamo questa partita Monza poi c'è Fiorentina che saranno veramente due partite con mezzo il Brighton importantissime per questa lotta Champions League forza Roma monologo terminato per la